In questo video andremo a vedere uno strumento relativamente recente di Microsoft, di Windows quindi che ci permette di effettuare il backup del PC rapidamente e di salvare molte delle impostazioni con un semplice click Si tratta di Windows Backup, è stato aggiunto con l'aggiornamento di settembre Quindi vediamo prima di tutto i requisiti per poterlo utilizzare Quindi chiudiamolo temporaneamente Apriamo le impostazioni di Windows che con l'ultimo aggiornamento saranno un po' diverse, almeno la home sarà diversa Il primo aspetto fondamentale è l'account Bisogna ovviamente avere un account Microsoft e non un account locale Quindi vi basterà andare su account e vedere se avete l'indirizzo email oppure qui in alto troverete il vostro account Se c'è l'indirizzo email significa che ovviamente avete l'account Microsoft Altrimenti se avete un account locale dovete necessariamente o creare o collegare un account Microsoft Lo dovreste scoprire anche utilizzando lo store Se potete scaricare le app dallo store ovviamente avete un account Microsoft Se avete un account locale non potete scaricare neanche le app dallo store Questo è il primo aspetto fondamentale per poter utilizzare Windows Backup Il secondo è avere l'ultimo aggiornamento di Windows Quindi da Windows Update Verificate disponibilità aggiornamenti e vedete se avete gli ultimi aggiornamenti Andando su cronologia degli aggiornamenti dovreste vedere la versione di Windows Quello che aggiunge Windows Backup dovrebbe essere KB5030310 Questa versione è quella che aggiunge Windows Backup a Windows 11 o a Windows 10 In alcuni casi potreste non avere ancora questo aggiornamento Quindi potrebbe non essere ancora visibile Potreste trovarlo in opzioni avanzate Aggiornamenti facoltativi Quindi in alcuni casi magari non è ancora presente tra quelli consigliati Quindi tra quelli fondamentali ma è tra quelli facoltativi Oppure lo potreste trovare già tra quelli diciamo obbligatori Ma dovrete cliccare voi su scarica aggiornamento Quindi magari non si scarica in automatico lo troverete qui in elenco Quindi aggiornate intanto all'ultima versione di Windows Quindi con l'aggiornamento KB5030310 Potete cercare anche questo codice su Google e troverete il link alla pagina Microsoft Magari ve lo metterò anche sul mio sito web Quindi se non trovate questo aggiornamento troverete sul mio sito il link per scaricarlo esternamente Quindi il file di installazione Quindi se siete da YouTube andate in descrizione Link articolo e lì troverete il link per scaricare questo aggiornamento Quindi detto ciò abbiamo tutto quello che ci serve per usare Windows Backup Andiamo su Start In cerca app, impostazioni e documenti Scriviamo Windows Backup Ci troverà ovviamente l'app Clicchiamo su apri Ed abbiamo quindi Windows Backup Possiamo effettuare il backup di quattro elementi Le cartelle, le app, le impostazioni e le credenziali Partiamo dalle cartelle Quindi se apriamo cartelle possiamo effettuare il backup di tre cartelle Il desktop, la cartella documenti e la cartella immagini Non possiamo personalizzarlo Quindi non possiamo inserire cartelle magari che ci interessa salvare Possiamo salvare solamente desktop, documenti e immagini Ovviamente possiamo disattivare quelle che non ci interessano Quindi magari non voglio il backup del desktop Non voglio il backup delle immagini Non voglio il backup dei documenti Vado a disattivarli e in questo modo non verranno salvati nel backup Andandoli invece a riattivare Ovviamente li aggiungeremo al backup Abbiamo poi il backup di tutte le app installate E tutte le preferenze delle app Quindi tutte le impostazioni che abbiamo configurato Rimarranno attive Abbiamo il backup delle impostazioni di Windows Quindi abbiamo accessibilità Quindi abbiamo accessibilità La lingua, il dizionario Tutte le impostazioni di Windows Le personalizzazioni Quindi lo sfondo utilizzato Gli account creati Quindi qualsiasi elemento che abbiamo creato Tutto inserito nel backup E per finire possiamo effettuare il backup delle reti wifi E delle password Quindi in questo modo Diciamo che questo magari è più utile Per un portatile che magari portiamo E quindi colleghiamo a più reti wifi Altrimenti la rete wifi sarà unica Quella di casa Se abbiamo un pc fisso Quindi ci sarà un'unica rete wifi E anche le password Diciamo Dovrebbe fare il backup Di tutte le password presenti in Edge E tutte le password degli account Microsoft collegati Quindi se vogliamo il backup di wifi e password In questo modo al ripristino si collegherà automaticamente Possiamo tenere attivo Quindi una volta scelto che cosa andare a salvare Ci basterà cliccare su backup E verrà effettuato quindi in automatico Il backup di tutte queste impostazioni Quindi dove viene salvato il backup? Ovviamente non sul nostro pc Ma sul nostro account OneDrive Quindi nel cloud Sull'account OneDrive Collegato al nostro account Microsoft Questa operazione Quindi Windows Backup L'utilizzo di Windows Backup E l'esecuzione dei backup Può essere molto utile Anche per contrastare i ransomware Vi ho parlato diverse volte dei ransomware Sono quei virus che vanno a criptare i vostri file Quindi li modificano in modo che voi non possiate più utilizzarli E vi chiedono un riscatto Avendo il backup del vostro account potete andare a recuperare i file Ovviamente purtroppo il backup è solo di queste tre cartelle Quindi se vengono criptati file presenti in altre cartelle Non potete recuperarli Ma potete salvare queste tre cartelle Ovviamente ci sono altri software di backup magari più completi Che fanno il backup dell'intero sistema operativo Ma quello è un altro discorso Qui parliamo di Windows Backup Comunque uno strumento aggiunto da Microsoft Assolutamente utilissimo Quindi per questo video è tutto Se il video ti è piaciuto metti like In questo modo mi aiuti a capire quali sono i contenuti che vi interessano maggiormente Inoltre se ancora non lo hai fatto Iscriviti al canale e attiva la campanella Così non perderai tutti i miei prossimi video Ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine Come sempre per qualsiasi dubbio, domanda o suggerimento Puoi scrivermi nei commenti E ci vediamo al prossimo video Ciao